Ben ritrovati al telegiornale oristanese. Questo pomeriggio è stata pronunciata la sentenza per il delito di Manuel Careddu, ergastolo per Cristian Fodde, mentre Riccardo Carta e Matteo Satta ottengono una diminuzione della pena. Vediamo. Ergastolo per Cristian Fodde, 30 anni di reclusione per Riccardo Carta e 16 anni e 8 mesi per Matteo Satta. Questa è la sentenza pronunciata nel pomeriggio dal giudice per l'udienza preliminare di Oristano Silvia Palmas. Tanta l'attesa per un processo che ha tenuto col fiato sospeso perché ne sono protagonisti giovani ragazzi immischiati in vicende che poco si addicono a una così tenera età. Eppure Cristian Fodde è colui che quella sera dell'11 settembre scorso ha ucciso a colpi di piccone e badile il quasi coetaneo Manuel Careddu, colpevole di aver preteso il saldo di una partita di droga. Riccardo Carta, che aveva messo a disposizione il terreno di famiglia per l'occultamento del cadavere, ha ottenuto una diminuzione della pena rispetto alle richieste dell'accusa. Dopo la ringa dell'avvocato Angelo Merlini, il giovane ha ora davanti a sé 30 anni per lavorare sul proprio riscatto sociale. Matteo Satta, che aveva creato l'alibi agli amici tenendo lontani dal luogo del delitto i telefoni cellulari, resterà in carcere per 16 anni come i due minorenni implicati nella vicenda. Questo pomeriggio erano presenti in aula anche i genitori della vittima, per i quali la difesa portata avanti dai legali Gianfranco Piscitelli e Luciano Rubatu aveva chiesto un risarcimento di 600 mila euro. Si chiude così un triste capitolo di cronaca provinciale che ha coinvolto dei giovani con un passato burrascoso e un futuro dietro le sbarre. Questa mattina a Ollastra Vittorio Lilliu, un pensionato di 69 anni, si è accasciato a terra ed è morto mentre rientrava da una passeggiata. Un malore la causa della caduta che gli ha procurato gravi ferite alla testa e non ha lasciato scampo all'uomo. All'arrivo dell'ambulanza del 118 era già privo di vita. Sul posto anche gli agenti dell'arma dei carabinieri. Giovanni Perria, il pensionato di Narbolia accusato di aver ucciso la moglie, resta in carcere. Sentiamo i dettagli. Giovanni Perria, il pensionato di Narbolia accusato di aver ucciso la moglie Brigitte Pazzernic, resterà in carcere. Come disposto dal GIP di Oristano che ne aveva ordinato la custodia cautelare. Lo ha deciso il collegio dei giudici d'appello di Cagliari che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzati dalla difesa di Perria. Tutto è nato da un'intercettazione captata nella cella del carcere di Massama dove il pensionato era inchiuso, nella quale l'indagato sarebbe stato pronto a far pressione su una testimone chiave, la sua vicina di casa, che aveva raccontato di averlo visto uscire in macchina con la moglie la sera della scomparsa. Secondo la difesa invece le frasi non sarebbero state pronunciate dal proprio assistito ma dal compagno di Cella che suggeriva Perria strategie da seguire per convincere la testimone oculare a ritratare. La procura di Oristano è convinta della colpevolezza di Perria. I domiciliari sono stati negati per il rischio di inquinamento probatorio. Incidente questa mattina sulla 131 nei pressi dell'ingresso per Santa Giusta. Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Un ferito è stato trasportato per accertamenti all'ospedale San Martino, lunghe code e rallentamenti sulla statale. Passiamo alla politica. Taglio dei vitalizi è rivolta tra gli ex consiglieri regionali. Il provvedimento adottato dal Consiglio regionale che taglia ma in maniera lieve i vitalizi che percepiscono gli oltre 300 ex consiglieri regionali e gli eredi in via diretta sta provocando le reazioni degli interessati che annunciano ricorsi in via amministrativa contro una misura che ritengono ingiusta e illegale in quanto è non solo perché retrodatata. La riduzione deliberata non incide nella sostanza su quanto ogni mese queste persone percepiscono. Per alcuni il valore dell'assegno lordo mensile che arriva dal Consiglio regionale e viene accreditato è pari se non oltre a quanto un pensionato riceve in un anno con l'assegno minimo mensile di 514 euro. Di fronte alle proteste degli ex colleghi sono insorti i consiglieri regionali di 5 Stelle che addirittura propongono di abolire del tutto i vitalizi già attribuiti. Quanto meno questi dovevano essere rapportati agli oneri previdenziali dovuti dai datori di lavoro e che sarebbero venuti meno in dipendenza dell'incarico elettivo riequilibrando quindi un sistema pensionistico, egualitario e non classista che in alcuni casi vedono ex consiglieri che con la dovuta pensione dal lavoro privato aggiungono un congruo vitalizio e spesso anche due. Proseguono le iniziative di presentazione e valorizzazione delle produzioni sarde nel mercato contadino di Via degli Artigiani. L'oro nero, come viene chiamato il tartufo sardo, è di scena al mercato di Campagna Amica di Via degli Artigiani a Oristano. Ospite del mercato contadino sarà infatti l'isola dei sapori di Veronica Carta, giovane imprenditrice di Laconi di 23 anni, un'azienda che da alcuni anni valorizza i tartufi nostrani. I consumatori potranno avere informazioni e assaggiare alcune particolarità. Domani, 13 luglio, riaprirà la torre costiera di Torre Grande. Vediamo. L'imponente torre della borgata marina di Torre Grande riaprirà domani, 13 luglio. Fino al 15 settembre sarà la Fondazione Oristano a occuparsi della gestione, assicurando l'apertura e le visite al suo interno. Dopo la rapida riapertura del Museo Antiquarium Arborense, della Pinacoteca Carlo Contini e dell'Archivio Storico Comunale, all'indomani del voto del Consiglio Comunale e dell'atto costitutivo davanti al nottaglio, la Fondazione avvia dunque la sua attività per la valorizzazione del patrimonio culturale, consentendo la fruizione del simbolo della località marina oristanese. La Fondazione Oristano muove i primi passi nella giusta direzione, hanno dichiarato il sindaco Andrea Luzzo e l'assessore alla cultura Massimiliano Sanna. Oggi, 12 luglio, nella Pinacoteca Comunale sarà inaugurata la mostra delle opere che hanno partecipato al concorso Emozioni di Sartiglia. Al Museo Antiquarium si stanno definendo iniziative per arricchire con una nota culturale le noti bianche dello shopping oristanese. C'è da essere soddisfatti per il lavoro che si sta facendo e per il futuro del nuovo organismo a cui il Consiglio Comunale ha affidato il compito di promuovere e valorizzare i beni culturali oristanesi, hanno concluso Luzzo e Sanna. E la mostra con le opere di Emozioni di Sartiglia resterà visitabile nella Pinacoteca Carlo Contini fino al 29 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Un nuovo furto di materiale prelevato dalle spiagge sarde. I turisti sono stati fermati al porto di Olbia. Vediamo. Ennesimo blocco di turisti prima dell'imbarco perché ritrovati in possesso di conchiglie, frammenti di Poseidonia e tre esemplari di Pinna Nobilis, da tempo protetta e non prelevabile dai litorali. Il fatto è accaduto ieri, giovedì 11 luglio, al porto di Olbia, lo segnala l'agenzia ANSA. I turisti, una famiglia tedesca in partenza per Livorno, sono stati fermati e segnalati alle autorità competenti. Un fenomeno che si presenta costantemente nei porti dell'isola, dove si raccoglie il maggior flusso di turisti in uscita. Fenomeno per il quale proprio il governo tedesco lo scorso anno aveva lanciato una campagna pubblicitaria per informare i propri connazionali del divieto di prelievo di quello che probabilmente vuole essere un souvenir pregiato, che sta costando tanto alle spiagge sarde. I comuni fanno ormai sempre più affidamento sulla sensibilità del privato cittadino, che spesso si adopera per contrastare il ladro di sabbia, soprattutto nei periodi in cui ancora non è attivo il servizio di guardiania, che vigili i suoi furti. Massimo Dejana, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, ha ammesso forte preoccupazione per le dimensioni che il fenomeno sta assumendo anno dopo anno. Ritengo sia improrogabile, ha affermato, un'azione congiunta di tutte le istituzioni, degli operatori turistici e del settore trasporti. Il comandante della Capitaneria di Porto di Oristano, Antonio Frigo, rende noto che da oggi, venerdì 12 luglio al giorno 28 luglio, verranno eseguiti i rilievi batimetrici del Porto di Oristano tenuti dalla Capitaneria di Porto di Cagliari. Nel corso dell'esecuzione dei rilievi, tutte le unità navali in transito dovranno prestare la massima attenzione. Chiunque navighi in prossimità dei lavori dovrà procedere con massima cautela e navigare compatibilmente con le esigenze di manovra a velocità ridotta, prestando attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere rivolte anche via radio dall'unità. Nuova responsabile del servizio forestale provinciale, si tratta del commissario capo Maria Tiziana Pinna. Sentiamo. Il servizio forestale provinciale di Oristano ha un nuovo responsabile. Si tratta del commissario capo Maria Tiziana Pinna, già in servizio nel corpo forestale da 28 anni, che recentemente si è occupata di importanti indagini giudiziarie. Pinna subentra a Maria Piera Giannasi, ora trasferita a Sassari. Tre lauree in giurisprudenza, diritto delle amministrazioni pubbliche, private ed economia e commercio, la nuova responsabile è anche iscritta all'albo dei revisori dei conti. A partire da oggi, coordinerà la campagna antincendi territoriale e la base operativa della forestale di Fenoso. Il servizio di radiologia territoriale dell'ospedale San Martino di Oristano comunica alle pazienti che non hanno potuto eseguire la mammografia a causa del guasto tecnico che si è verificato tra l'11 e il 27 giugno scorsi, che il dottor Antonello Gallus e la dottoressa Graziella Agus hanno programmato delle sedute aggiuntive, con doppie liste nei giorni di martedì e giovedì delle prossime settimane. Le pazienti interessate verranno contattate dagli operatori della ASL e verrà comunicato loro il giorno della futura indagine diagnostica. Per la manifestazione Muri, al centro servizio culturali UNLA, martedì 16 luglio alle ore 21, è in programma il monologo teatrale Ma lì dove sono nata vorrei tornare, liberamente tratto da Come figlia e anzi di Giacomo Mameli. Saranno presenti Chiara Lutri, adattamento e regia di Paolo Floris. Al termine dello spettacolo interverrà l'autore del libro Giacomo Mameli. E chiudiamo con un'ultima informazione di servizio. Abanoa comunica che in seguito a una grossa perdita nel centro storico del paese di Milis, domani, sabato 13 luglio, a partire dalle ore 8 e fino a conclusione dei lavori, verrà interrotta l'erogazione di acqua in tutto il centro abitato. E con questo è tutto, vi ringrazio di averci seguito e vi ricordo come sempre che potete contattarci all'indirizzo mail, redazione, chiocciolasupertv.it o sulla nostra pagina Facebook. Grazie e buon proseguimento. Grazie.